A Reddette Forum di Milano incontriamo Antonio Leo, Alliance Manager e Territory Leader di Reddette Italia. Quali le direttrici principali lungo cui si svilupperà la strategia di GoToMarket, la strategia dedicata alle terze parti nell'esercizio 2015? Il nostro punto di forza è sempre il canale Reddette, quindi cerchiamo di portare avanti i nuovi programmi di partnership con diverse entità del canale. In questo caso i Global System Integrator, i partner locali e ultimamente anche una nuova direttrice che è la parte degli ISV. Quindi chi sviluppa applicazioni e in modo molto verticale implementa queste applicazioni sul mercato, oggi è un po' nel nostro radar per portare la tecnologia open source e trasformarci un po' da vendor di tecnologia un po' più in verticale verso le applicazioni, il mondo business e da qui gli ISV che lavorano sulla parte finance, sui mercati telco e ne altre verticalità come mercato. Questo è sicuramente uno dei punti di interesse di Reddette ad oggi perché siamo naturalmente maturati e riusciamo adesso anche ad arrivare ad entrare come tecnologia in black box, in device, in applicazioni per portare una soluzione specifica verso un mondo ben delimitato, ben inquadrato. Abbiamo parlato di profili di partner, quali le opportunità di business principali, i progetti su cui intendete lavorare con queste tipologie di partner? Sicuramente uno degli ambiti è la parte cloud, oggi lo vediamo un pochettino, ci sono diverse presentazioni sia sulla parte middleware che cloud, poi le due cose vanno anche insieme. Noi abbiamo due tecnologie molto molto interessanti, il mondo cloud, una di queste è la tecnologia IaaS e PaaS, platform as a service. Lì racconteremo tanto, già di tecnologia PaaS ne abbiamo parlato in passato, abbiamo una soluzione molto interessante che è OpenShift, è OpenShift sul mercato già da diverso tempo, ormai sono due anni, l'abbiamo tenuta in testa, adesso è una soluzione affermata e pronta per essere inserita all'interno di servizi PaaS per i clienti. Siamo partiti prima dal mondo telco, adesso pian piano si sta un po' diffondendo e i partner più recettivi, chi ha servizi, risorse che può spingere verso la direttrice cloud lo sta facendo adottando sia il know-how, lo skill sulla nostra tecnologia per poi implementarla. Ci sono in cantiere diversi progetti sul mondo cloud molto molto interessanti, poi vedremo lungo l'arco di quest'anno quando si svilupperanno e magari riusciamo anche a farne un case study e quindi raccontarla un po' sul mercato anche in occasioni del genere. Un messaggio da dare agli operatori delle terze parne che intendono abbracciare o che si stanno avvicinando al modello open source? Che assolutamente non è una religione, è un modo diverso per sviluppare e per fare sinergia e soprattutto lavorare insieme per creare un qualcosa di interessante. Nel caso della community per noi, Fedora, J-Boss eccetera, non è altro che sinergie di tante persone, tanti individui che lavorano insieme per produrre qualcosa. Con i partner questo si può fare. Redatte molto molto recettiva, aperta a collaborazioni di risorse che appunto sviluppano con noi o sono kernel maintainer o code committer e creano o degli asset o pezzi di tecnologia insieme a noi. La stessa cosa possiamo farla sul mercato. Sinergia, lavorare a braccetto su dei progetti interessanti per far innovare i clienti ed è la cosa più importante. Quindi al centro c'è sempre l'esigenza del cliente e come riuscire a risolverla. Magari oggi, diciamo, spendendo un po' meno e innovando sempre di più e riuscendo magari anche a entrare nei costi di quel budget che è sempre un po' più limitato ultimamente. E questo noi riusciamo a farlo molto bene. Quindi i partner che insieme a noi fanno questo hanno una situazione molto vincente da win-win, mettiamola così.